Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di The Madden Spider-Man Continuiamo da dove erano rimasti, volevo fare un po' di missioni secondarie e c'erano da portare in salvo un po' di persone, vediamo un po' se me le da ancora La voglio fare perché queste missioni mi aiuteranno parecchio a livellare e soprattutto a esplorare un po' la mappa perché se dovessi fare un episodio solo di esplorazione sarebbe veramente molto noioso anche perché la mappa è molto vasta, lui va molto veloce e vedere le cose è di vero difficile io adesso ho sentito ad esempio il rumore di quella rivista che non vedo assolutamente quindi è un bel problema, l'ho persa, vedete com'è facile perderle, purtroppo è veramente complicato ecco qua, oh questo è una cosa buona perché mi dai gli ingannaggi, ingannaggi mi sembra più potenziale su tutte cose che alla fine servono sempre, va bene andiamo pure dal tipo topo eh no stavolta però ti ho visto, ti ho sentito e ti ho visto, continuo a averlo sentito e averlo vista mi sembra qui sopra eh, a naso, ops, esatto, sì sarebbe meglio perché così mi evito di fare un sacco di cose di fare l'abbonamento però, vabbè ormai è andata, sì, sicurezza, sicuramente sarà così allora, vediamo un po', ecco, vedete questa c'è un'altra rivista, per fortuna questa la posso prendere interessante eh, in che senso? ok, vedete qui ce n'è un'altra eh, ce ne sono tante per la prendere eh, una, un secolo oh, sì va bene, andiamo pure eh, perché esplorare è importante? se io la facessi senza fare le missioni perderei un'avagonata di tempo e non troverai neanche la roba invece così almeno ho la scusante del vedi, dopo abbiamo anche la quest eh, andiamo dal punto più lontano prendiamo quelli più vicini e ci avviciniamo fino alla quest è l'unica cosa sensata eh, oh, non ti cantare eh, come corre, non si capisce niente come, ehm sistema di guida veramente molto instabile Spider-Man eccola qua lo prendo in che senso, scusa? eh, spero nel senso buono perché sennò qui è un casino ecco qua eh, non so se era una dichiarazione o eh, un'affermazione va bene andiamo pure avanti eh, ecco qui c'è un'altra eh, guarda come si diverte beato lui 194 eh, siamo quasi a 200 non male, non male dai, diciamo che ehm potrebbe andare meglio ma potrebbe anche andare peggio e quindi ne ho visto una cosa che non c'era ottimo come al solito bene, e siamo arrivati perché mancano tanto due metri penso sia dall'altra parte del soffitto qui del grattacielo eh, naturalmente mi sono scelto il grattacielo più alto dell'universo eh, figuriamoci aspetta eccola qua oh ci penso io bravo, meno male che ci pensi in te perché sennò era un casino ok chi non fa parte delle squadre di internazio lascia che io ti aiuto sì io lo sto aiutando quindi eh, non ti metti te allora eh, ecco naturalmente la grattacielo più alto dell'universo l'ho preso io ok sì ci siamo quasi ci siamo quasi tranquilla vedo il traguardo e vedo anche eh, vai così preso eh, sì siamo a 196 da che siamo quasi eh, a 200 mh andiamo un po' eccoci qua qui non c'è bisogno di fare altro non devo vomitare addosso è ora di fare pulizia sì ok eh, andiamo qua e così ci avviciniamo sempre di più no, la pandemia non viene non ti preoccupare sarebbe una tragedia in mani se ci fosse eh andiamo un po' ecco qua vediamo se ci riesco non ci riesco però qua magari ce la faccio eh, sali grazie molto gentilo eccola qua andiamo ecco qui presa oh lo so, lo so lo so sono fantastico andiamo pure avanti eh, dai siamo quasi eh, arrivati stavo andando alla missione invece di andare con la secondaria andiamo alla primaria eccoci qua ci siamo quasi ci siamo quasi eh, no non ho mancato come al solito una mira orrenda ma sì, dai oh era lì eh ma non lo so che dolori hai vediamo un po' oppà dai è un chilometro quanto sei cattivo mi hai mandato lontanissimo un chilometro eppure c'è l'unico cosa qui mmm ok è fantastico allora mi aveva cresciato pazienza comunque mi ha salvato l'omino andiamo pure avanti eh, questo gioco ha un po' di problemi eh, non riesco a risolverli non penso dipendiano da me comunque eh, non importa ho fatto un taglio e l'ho eh, rincorporato nell'altro siamo a posto lo stesso non c'è problema comunque salvo abbastanza in fretta non mi sto a cruciare troppo di cercare di risolverlo visto che non è così grave andiamo pure avanti non esistono crimini minori no eh, esiste la possibilità di passare invece vediamo un po' eh, naturalmente ho preso il gattacielo più in male dell'universo allora ragazzo dove devo andare? troppo con questi visuali ok, lo vedo con questi visuali è un casino eh, però vorrei prendere anche questo che non ce la farò mai vero? vediamo se lo prendo in qualche modo no, non lo prendo non lo prendo e vami qua allora oh, ce l'ho fatta vai oh, scusate ma visto che c'ero il prezzo è mettato lo prendo in tutto gratis eh, ecco qui eh, non lo chiamerei ospedale ma sì ti porto a quello più vicino più che una baracca più che un ospedale però va bene lo stesso allora mi porti a quello più vicino rallenta deciditi eh, non stai mi stringi il collo mi vuoi strozzare eccoci qua siamo arrivati oh oh ma cattivo oh togli i telebaroni ora ci pensiamo noi sì sì bravo bravo ecco qua oh, mi dai un po' di roba grazie molto gentilo andiamo con l'ultimo non è l'ultimo ma è l'ultimo di questa zona e poi farei la missione secondaria eh, quella del criminalo oh, mi hai sbloccato qualcosa di interessante ti ringrazio molto gentilo andiamo pure avanti eh, guardiamo se c'era qualcosa se ci fosse stato qualcosa che ho sicuramente evitato ehm aspetta ecco ti qua bene sì oh finalmente uno vicino e questo qui me me lo ehm faccio molto volentieri ecco qua faccio piano ok sì pianissimo guarda la tuta è tutta rovinata ehm lo so grazie molto gentila ok andiamo a fare di sbavate ne ho abbastanza per oggi grazie dicevo che era un negozio un negozio una rivista quella però è una rivista ne sono abbastanza sicuro ok eh sì eh ok e dovrebbe essere qua dietro certo che ne possiamo parlare ehm vabbiamo sì 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 sono qui sono qui non ti preoccupare adesso li prendo tutti li prendo tutti quanti non ce l'è più nessun altro ah c'è quello naturalmente quello più difficile mi dai vabbè è stato abbastanza facile in realtà civilo dove sei ma non è un civile è una gente sono in debito spiderman l'importante è che tu stia bene ma che appena un appuntamento usciamo insieme è una serata intima no eh per niente vabbè peccato di solito il supereroe attira molto ma questo qua a quanto pare lui non vuole e niente appuntamento andiamo pure avanti andiamo pure avanti eh dove andiamo avanti che se non seleziono la quest posso girare vuoto per l'infinito e oltre questa è casa mia e ci andrò presto ehm facciamo che vado qua e poi mi faccio questa della macchina eh e invece se facessi prima questa poi facessi l'altra ho fatto un gran casino come al solito ehm dimensioni per fortuna ce ne sono diverse e quindi riesco a fare anche quelle lì di trasporto sì mi chiami così e poi non dici niente va bene non importa ok un chilometro a tre eh la strada qui è un po' eccola qua libera eh dai non male non male il prossimo gioco che ho intenzione di portare dovrebbe essere o Fallout 4 o un altro sparatutto che devo vedere se è Gears of War 2 o Halo ci devo pensare ehm ho visto qualcosa l'avrei vista qualcosa se solo mi desse la possibilità eccola qua di prenderla ecco posto presa fantastico fantastico sì c'è anche un'altra siamo a 200 ragazzi siamo a 200 qui nel parco c'è veramente diversa roba ma trovarla è anche molto difficile oh aggrappati eh cavolo eh adesso la rapina sì sì adesso lo faccio non ti preoccupare vado a mettere in gabbia ma eh cavolo eh scusa io sto parlando tu mi interrompi così non si fa dai ok siete qua da qualche parte eccoti qua i periti devono lasciare l'area e recarsi alla postazione di soccorso di un vicino portami all'ospedale no no ti porto sì ti porto due chilometri santa miseria così tanto speriamo di trovare qualcosa nel frattempo ma quando ho un civile sulle spalle non mi fai vedere molto vorrei un taxi non mordere la mano che ti salva eh infatti scusami tu vuoi il taxi ma io il taxi non te lo posso dare scusate mi sembrava di aver visto qualcosa ma come al solito io ho le allucinazioni ho visto qualcosa di giallo pensavo fosse il giornale invece era solo un taxi dei tanti ecco qua andiamo su un infetto in meno per le strade infetto in meno mi sbava l'osso ah allora ce n'è una dietro riuscire a prenderla ok grazie spiderman oh a meno quando ti ringraziano fa sempre piacere aiutare le persone un grazie è più che sufficiente non voglio di più allora adesso di qua bene bene l'ho superato la grande ok eh spero spero che ti ho visto ti ho visto eccoti qua preso guarda cosa abbiamo qui cosa abbiamo qui guarda cosa abbiamo qui e non mi hai detto cosa abbiamo qui ok una bella rivista lo so l'ho presa apposta vai vai 700 metri benissimo manca poco 400 metri è laggiù lo vedo io ho provato non mi piace affatto bagnarmi eh questa sia una cosa che piace solo a pochi o a poche va bene ecco qua ho visto qualcosa qui al volo proprio eh eh sì ti porto eh ti 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 porto subito eh scusate me l'avevo vista eh sì 203 ragioniamo bene e tanto eh sei una bella maletta lo sai non mi ha mai nessuno ok perfetto sì non direi proprio sana perché è malata però diciamo che è salva bene io farei questa missione primaria e poi fare queste due andremo a fare quest'altra e l'elicottero ecco come ti ho detto non eri sana non è che siamo arrivati sani e salvi siamo arrivati salvi eh vabbè non importa ti piacerebbe se fosse sana da lasciami il numero ti vengo a trovare quando guardisci no spade me non è per niente malizioso va bene andiamo un po' eccoci qua posto ce ne saranno due sicuro forse tre eh vediamo un po' facciamogli vedere di che siamo capaci eh facciamoglielo vedere eh ce ne sono due come immaginavo ecco qua oh direttamente proprio cosa credita eh vai adesso questa qui facilissima ecco qua schiviamo e adesso è andata non dovete farmi un altro colpo tranquillo finirete tutti in galera oh quindi devono stare proprio tranquilli ah non mi fai andare cioè questo è proprio è uscito con nonchalance al volo proprio grande così lui si che è un uomo allora vediamo un po' mi fai salire grazie molto gentilo eh ma dove cavolo vai ecco qua proviamoci di nuovo beh dai non è difficile così dai così ce la facciamo dai ah scusate ho messo il joy fa troppo vicino al microfono dopo si sente non ho nemmeno sudato abbiate pazienza sono un po' distratto ehm non ha nemmeno sudato va bene beato te io ho un caldo eh non me la fai ancora vedere andiamo un po' avanti ok adesso dovresti niente non mi dovresti non mi dovrebbe insomma sto mi dovrebbe farvi delle missioni ok facciamo quest'altra poi fariamo facciamo le due di trasporto e poi facciamo quella dell'elicottero così abbiamo completato un bel po' di cose e mi interessa parecchio completare le cose il gioco non vorrei farlo al 100% perché è un'impresa molto impegnativa con tutti i giochi fare al 100% però arrivare a un 90 92 non mi dispiacerebbe come quasi tutti i giochi io cerco sempre di fare almeno sopra gli 80 se mi riesce naturalmente non è un obbligo ma è un piacere certe volte è un piacere ok ci siamo quasi si non so se è quello che sto andando a fare adesso o è quello dell'elicottero però a naso direi più quello dell'elicottero però vediamo ecco qua ok no non mi piace facciamo così va venite 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 vi voglio vi voglio qua perché faccio così e ne prendo un bel po' ok si si ti aiuto va guarda te ok rilassati io ho spinto Y bene sono contento per te perché così almeno muori prima ma non ho capito a questa che faccia più male a me che a lui però è andata bene civila non so come ringraziarti l'importante è che tu stia bene ma avete notato quello dietro che cazzo ma ragazzo non è bello quello che fai lo sai ora vado grazie prego il numero se me lo dai una cenetta siamo pari mannaggia te si fa i selfie e si fa tutte le cose va bene ok dai facciamo queste e poi andiamo all'elicottero e dopo andiamo alla primaria perché tanto è rimasto solo quella a meno che la mia giornalista lì non mi dia qualcosa di specialo da fare possiamo anche andare bene bene dai 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 su 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 non essere timido non fa degli sforzi a volte si diverte io l'ho sentito l'avete sentito anche voi sono più che convinto ma non lo trovo beh quasi no non lo sento più qua eccolo qui eh si ci siamo si ne ho 205 non ci siamo proprio alla fine però ci siamo abbastanza dai via al volo 2 km mamma mia spero almeno nel tragitto di trovare un po' di cose gradite tipo tipo che sento ma non posso avere si si ci vado pianissimo cosa scusa quando uno dice aggrappati non è mai bello non lo vedo e invece si eccolo qui ecco qua vieni cara aggrappati pure che io prendo questa eh hai visto accidenti ma ne abbiamo anche un'altra eh eh sei molto così come dire paurosa non posso fermarmi ce ne sono altri ma ce n'è uno non ce ne sono altri uno solo non ti preoccuparti se lo prendiamo certo sì che puoi una seratina insieme vedrai che siete a posto allora non lo so non potrebbe mai ripagarti se ne potrebbe come dire gioire di un po' di compagnia visto che è sempre solo e invece no preferisce stare da solo insomma grazie eh 300 metri dai ok mi sono preso naturalmente sempre il gratis più alto dell'universo ok ci siamo ci siamo e ci siamo eh no io avevo spinto RB ma ecco mamma mia schifio ok no all'ospedale non a casa a casa cosa fai vomiti per tutta casa e non va bene dopo che pulisce eh insomma non si fa così dai cerca di essere un pochino più coerente eccoci qua eh scusa eh oh ce l'ho fatta eh la miseria ah ok io dico che adesso possiamo fare l'elicottero eh gradito gradita la cosa eh prego beh facciamo che ci fermiamo qua così alla prossima facciamo l'elicottero e la la missione primaria dai dai facciamo così ho un'idea diversa vediamo quanti punti ho 125 potrei fare effettivamente questo impatto di regnatele aumenta la potenza di impatto delle tue regnatele ehm per allentare i nemici immuni e immobilizzati dai facciamo questa così almeno ci togliamo il potenziamento ed è tanto eh fatica tolta prego è stato un piaciore bene ragazzi io direi che per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video di diamanti di spiderman e vedremo un pochino di eh fare questa missione dell'elicottero che mi piacciono molto e poi fare con la primaria così aiutiamo Gwen bene ragazzi io vi do un saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi